Al 37esimo attenzione, punizione, il gol di Pecci contestato dagli Irpini. Si sfalda l'Avellino e Monelli al 42esimo spedisce fuori il raddoppio. Era gol? Non era gol? Quello di Pecci sulla ripetizione. Ecco che cosa dice l'autore. No, io non posso dire niente, però ho avuto la sensazione che fosse dentro. Però se dovessi giurare non lo farei, però ho avuto la sensazione che fosse dentro.